Ciao Tele Nicosia, è la prima volta che vengo a Piazza Almerina e ringrazio Piazza Almerina, ringrazio chi ha organizzato questo meraviglioso festival, che parla di inclusione, che parla di lavoro, di unione di forze, di sinergie, di scambi, di condivisioni e cosa meglio della musica. Infatti questo campus è stato straordinario perché ha messo assieme tutti questi ragazzi diversi per nazionalità, per lingua e nonostante queste diversità noi ci siamo capiti, abbiamo costruito assieme, abbiamo prodotto, abbiamo scritto, abbiamo creato e stasera tutto quello che è stato creato ve lo dimostriamo e ve lo mettiamo su questo palco, spero che voi lo graviate.